Sono Chiara Simonelli e sono un professore all'Università La Sapienza di Roma, insegno psicologia dello sviluppo sessuale e affettivo nell'arco di vita, faccio molte altre cose, lavoro spesso anche come consulente per la radio, per la televisione e per i giornali, il mio lavoro mi appassiona moltissimo e quando ero una ragazza degli anni 70 ascoltavo con grande passione la radio. In quegli anni sono stata un'ascoltatrice appassionata della radio, veramente ancora adesso l'ascolto molto molto volentieri, perché penso che sia un mezzo che rispetta l'essere umano, che ti dà una serie di input, di notizie, di stimoli per ridere, scherzare e riflettere e quelli sono stati anni d'oro, anni importanti, mi fa molto molto piacere che ci sia un'iniziativa come questa e quindi faccio il tifo per voi.